ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono GioRed e oggi parliamo del collegio 4 in particolar modo di Claudia Dorelvi vi ricordo ragazzi che se volete votare il vostro preferito del collegio andate nel link che vi metto qui sopra oppure in descrizione iniziamo col video inizia la nuova puntata del collegio 4 e lo fa subito con le sorti di Claudia Dorelvi nella scorsa puntata la ragazza è stata messa in isolamento per l'ennesima malefatta oggi la puntata è iniziata con l'incontro tra i genitori e il preside e dovrebbe essere per lei l'ultima chance onestamente io i miei dubbi che lei possa e voglia cambiare ammette il preside anche la lettera parla solo di se stessa non c'è una parola convincente di scuse per quello che ha fatto ribadisce il preside lei deve chiedere scusa alla signora sorvegliante poi all'intero collegio e alla fine a me continua a ribadire il preside Claudia infine spiega il suo comportamento mi sono comportata male perché ho paura di arrivare alla fine della mia vita senza aver fatto quello che volevo fa uno strano effetto sentire una frase del genere da una ragazza di questa età comunque anche i suoi genitori però non parlano bene di Claudia che alla fine le insin furia e va via salutandoli con freddezza alla fine Claudia accetta di scrivere una nuova lettera di scuse che convince il preside ma appena si gira il preside ecco confessare che si tratta di una finta lettera di scuse che cosa ne pensate voi di Claudia Dorelfi scrivete nei commenti per il momento concluso il video se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da Joe Ratt